Ragazzi buongiorno, buongiorno, oserei dire buongiorno un corno Commentiamo la partita Juventus-Berfica di ieri Allora ieri ero di riposo, ho guardato la partita Ora qualche mio follower, youtuber, dirà Ah ti sei guardato la partita, sicuramente hai portato sfortuna Qua non c'entra niente la sfortuna ragazzi Qua c'entra quest'allenatore di merda E sapete perché? E sapete perché? Perché questa squadra, quest'anno, è più forte di quella dell'anno scorso È nettamente più forte È nettamente più forte, non ci sono cazzi, non ci sono cazzi È nettamente più forti Abbiamo Milik che è un signor attaccante Abbiamo Vlauic Abbiamo Kostic che fa 50 cross ogni minuto 50 cross, uno al minuto Fa Abbiamo il difensore più forte della Serie A, Bremere Che giocando con Allegri sta diventando una pippa I giocatori sono tutti di buon livello Ora analizziamo la rosa del Benfica A parte Neres che è un gambione E questo quando vede la Juventus si esalta Perché ci segnò quando giocammo con l'Ajax Se vi ricordate A parte Neres, chi cazzo c'ha il Benfica? Analizziamo i giocatori del Benfica E analizziamo praticamente i giocatori della Juventus Per carità il Benfica sarà una buona squadra Sarà una buona squadra 11 partite vinte Con quella di ieri è salita a 12 partite Ma noi siamo più forti del Benfica Allora io ho guardato la partita Il primo tempo A parte gli ultimi 10 minuti La Juventus aveva il controllo del gioco Ha segnato un gran gol con Milik E più di una volta ha sferato il 2-0 Il Benfica sembrava che non ci stesse capendo un cazzo Allora io mi sono guardato Come i fratelli abbiamo detto Non è un gran che su Benfica Non è un gran che Perché comunque la Juventus aveva il pallino del gioco C'era Paredes che faceva il regista molto bene Perché smistava pallone qua e là C'era Milik che lo vedeva in forma Insomma Kostic che faceva cross sempre Sempre continuamente cross Poi Tum! La lampadina si è spenta A 10 minuti alla fine del primo tempo Abbiamo visto che anche prima Un quarto d'ora prima della fine del primo tempo La lampadina si è spenta Che cazzo è successo? Non si riesce a capire Lasciate perdere la condizione fisica Lasciate perdere Perché le altre squadre hanno la nostra stessa preparazione Quindi se il Benfica magari più avanti Ma in campionato abbiamo tutti la stessa preparazione A un quarto d'ora della fine del primo tempo Tac ed è Si è spenta la lampadina E il Benfica è cominciato a salire È cominciato a salire È cominciato a salire Minchiata di Miretti Perché tocca dirlo Minchiata di Miretti Ma ancora più minchiata Allegri che mette a Miretti Io non sto buttando merda sul ragazzo Ma uno che mette un giovane in Champions Che non ha esperienza È uno stronzo Perché così rischi di bruciare il ragazzo Hai messo Miretti Non solo contro il Presencio e meno L'hai messo anche contro il Benfica Quello ha fatto la cazzata Perché solo l'Ingeno può fare un fallo da dietro E la partita si è riaperta Si è riaperta Cioè tu non puoi mettere un giovane nella Champions League Non lo puoi mettere un giovane nella Champions League Quello ha fatto un errore di ingenuità Un errore di inesperienza Un fallo da dietro Che neanche la Rarinand Se ti si acusa fa questo errore Che fa un fallo da dietro Mentre quello si gira Non per andarsene in porta Per andarsene dall'altro lato E la partita si è riaperta Dalla 1-1 ragazzi La Juventus è crollata Mentalmente Fisicamente È crollata Ma la cosa che mi ha dato più fastidio Non è tanto la sconvitta Non è tanto la sconvitta È l'approccio alla partita Siamo entrati nel secondo tempo Il Benfica ci ha preso Appallonate Appallonate E io ora che mi incazzavo Davo pugni nell'armadio Perché cercavo di fare qualcosa Ma è possibile che questa squadra Non ha la reazione Non ha la reazione È come uno che ti prende a pugni E tu non reagisci Il Benfica non è Real Madrid Non è PSG Non è Manchester City Non è Liverpool Non è il Bayern E si faceva prendere appallonate Neres che sembrava Pelé Anche se un bravo giocatore Neres sembrava Pelé Tutti Tiri contro tiri Perini mi faceva anche pena E vedi che potevamo perdere anche di più Perché Perini ha salvato due golle Fatti Ci hanno preso appallonate E nessuna reazione Dalla Juve Nessuna reazione Nessuna reazione Ci hanno preso appallonate Tutto il secondo tempo È umiliante È umiliante Perché questa squadra qui Non ha carattere Non ha palla Non ha grinda Via Allegri Subito Subito Montero Che magari non ci capirà niente A livello di tattica Però a livello di grinda Il giocatore li prende a legnate Sicuramente con Montero Avremo più grinda Avremo più Cattiveria La Juve Manca la cattiveria Perché si fa prendere Appallonate E se analizziamo La rosa della Juve Con quella del Benfica Vediamo che la Juve È nettamente più forte Se giocavamo Come abbiamo giocato Il primo tempo Il Benfica Avrebbe preso Anche il 2-0 Ci metto la firma Avrebbe preso Anche il 2-0 E invece Siccome gli abbiamo regalato La partita che abbiamo Mollato Ci hanno battuto 2-1 Ma il risultato Poteva essere anche peggiore Perché Perini ha salvato due gol Potevano perdere anche 4-1 Ma sul piano del gioco Ci hanno umiliato I portoghesi Ci hanno umiliato Neres con la palla Ha fatto quello Che cazzo ha voluto E sta cosa A me non mi va bene Non mi va bene Ci vuole una svolta Ci vuole una svolta Perché la Champions Secondo me Oramai è compromessa La Champions Oramai è compromessa Perché dopo due sconfitte Ora tu dovresti andare a vincere A parte le due partite Con Magab Haifa Che questo secondo me Secondo me Poi non si sanno mai le cose Le dovresti vincere Ma dovresti andare a battere Il Paris Saint-Germain E il Benfica in Portogallo Col cazzo Quindi ragazzi Prepariamoci all'Europa League Che forse è la dimensione Che più ci competa Perché negli ultimi anni Analizziamo quello che abbiamo fatto Abbiamo perso Contro il Villareale Col Porto Col Benfica Col Lione Quindi non hai perso Non hai perso con Top Club Con l'Ajax Hai perso con Club normale Che significa questo Che la Juventus Parliamoci chiaro In questo momento Ha una dimensione Di Europa League Non è adatta Alla Champions League Io lo dico Perché sono sportivo Non è adatta E non è assoprattutto Un allenatore degno Orio se deve andare In Europa League Perché la Champions Non ci credo Lo voglio fare con Montero Con un'altra allenatore Perché questo Allegro è capace Che ci fa perdere Anche contro Gli scappati di casa Di una squadra bulgara Di una squadra polacca Di una squadra ungherese Di una squadra irlandese Eccetera eccetera Ci fa perdere Con quattro scappati di casa Come fece l'Inter Con la Paul Bischewa Quindi io non voglio fare Magra figura Anche in Europa League Perché oramai ragazzi È quasi sicuro Che andremo in Europa League Perché dovreste andare A fare un'impresa Dovreste andare a battere Il Paris Angel Man O il Benfica A suo punto Che è quello che è secondo Dovreste andare a battere Il Benfica in Portogallo Non ci credo Che tu batti Il Benfica in Portogallo Non ci credo Dovresti battere Il Benfica in Portogallo E poi dovreste andare a fare Due vittorie con Maccabi Haifa Anche se poi dovessi perdere Quella contro Il Paris Angel Man Di nuovo a Torino Forse con nove punti In teoria Potresti Dico potresti farcela Se dovessi battere La diretta avversaria Che è il Benfica Potresti farcela Ma non ce l'ha Oramai è compromessa Perché sei stato capace Allegri di perdere Le due partite di Champions Questo perché La partita del Benfica Era la partita determinante E quello col PSG Non contava niente Comunque Siccome ancora La Champions Non ci credo più C'è il campionato Ancora in ballo E noi tifosi Ci siamo rotti Il campionato Lo vogliamo A meno questo Salviamo il salvabile Ancora c'è un campionato Che all'inizio Siccome la Champions Non è compromessa E siamo destinati Ad andare in Europa League Quindi ragazzi Preparatevi nel divano Il giovedì pomeriggio Il giovedì sera A vederci l'Europa League E Prepariamo Buttate fuori Quest'allenatore Cazzo Buttate fuori Perché A meno lo scudetto Lo vogliamo A meno questo Lo vogliamo Perché un'altra stagione Con zero titoli Dopo che Vi hanno comprato Dopo che Allegri Ti hanno comprato Kostici Pogba Di Maria Milik Bremer Gatti Un'altra stagione Con zero titoli È inaccettabile E se tu Non sarai buttato fuori Vuol dire che la società È complice È complice con te Ciao a tutti E sempre Forza Juve